La squadra mobile e la squadra volanti hanno arrestato Anthony Calabrese, ragusano di 20 anni, per aver venduto ascici con l'aggravante di aver ceduto le dosi a due minori di appena 15 anni. Ad insospettire la squadra volante, ieri pomeriggio, un insolito via vai di giovani in piazza San Giovanni a Ragusa, per di più alcuni di questi già pregiudicati per reati specifici. In mediata la sinergia, tra i due uffici operanti, gli investigatori della squadra mobile si sono appostati in modo tale da non essere visti dai giovani, mentre la volante si è allontanata per non far distare sospetti. È bastato poco ai poliziotti per capire cosa stesse accadendo, occhiate, controllo della zona, cenni con la testa e poi lo scambio, un oggetto in cambio di banconote. Le due stecchette, rinvenute ad osso ai minori di appena 15 anni, erano in segnale per gli uomini della squadra mobile di intervenire. Un semplice messaggio alla radio nella sala operativa del 113 procedete alla cattura ed in pochi istanti il giovane aveva ceduto quegli oggetti, poi risultati essere droga, in cambio di denaro veniva bloccato e perquisito davanti agli occhi falsamente increduli della fidanzata che era in sua compagnia. I minori sono stati denunciati dal prefetto di Ragusa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti ed entreranno a far parte dei progetti previsti per i tossicodipendenti. Psicologi e funzionali della prefettura li seguiranno per far sì che non riprenderanno questi errori. I genitori li hanno presi in consegna e portati a casa. Anche loro hanno dichiarato di voler seguire con attenzione i figli.